Con goffa trascuratezza ho titolato il video sull'esterno come Serra Monegasca, Chidovegna, e ovviamente Serra Monacesca. Sul canale YouTube trovate già il video sull'esterno di questo straordinario monastero, ma anche l'interno mi ha parecchio colpito. Linee di un'elegante semplicità sia nei fregi che nella gestione dello spazio. In più il pavimento della navata centrale presenta una rara composizione geometrica poricroma databile attorno al 1200. Bello Lambone con notevoli somiglianze con la pari struttura di San Clemente a Casauria e di San Pelino a Corfinio. Sono altre due chiese che ho visitato negli ultimi tempi e fotografato e che presto pubblicherò su questo stesso canale. Buongiorno a Corfinio. Un'elegante struttura di San Clemente a Corfinio. Un'elegante struttura di San Clemente a Corfinio. Grazie a tutti.